Ma sono anche... Che a Penda l'ho fatto tante di quelle volte, non so neanche a Penda. Sì, l'ho fatto in tutti. Sì, l'ho fatto in tutti. No, non è male. Anche Cosseria, Cosseria. Allora... Però venì, ragazzi. Come andate? Ah, qui non è bellissimo. C'è un anno di essere quattro e meno, come ho detto nella prima partenza. È il primo anno che organizziamo. Vi chiedo, se c'è poi quando è finita, se c'è da modificare qualcosa per l'anno prossimo, ce lo dite volentieri, lo facciamo più che volentieri. Sono state tolte le transene che ha provato subito. Quindi penso che si fa abbastanza a velocità. Come, Ricci, chiede una domanda. Non c'è la cascina neanche in questa, no? Quindi la cascina non c'è in sbaglio neanche in questa. Siamo contenti! Grazie! Grande Max! Che dire? Oh, non cazzare la corsa tutta la prima discesa, eh? Come dicevo... Marco! Ok. Come dicevo, quando è finita la corsa, se c'è da modificare poi qualcosa per l'anno prossimo, ce lo dite e ve lo facevate. Eh? Io mi llevo dalle barre... Tre, due, uno... Atticare... Eh, dalle! Ok 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti